Gesù e Maria State per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni a voi non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare io vi benedica è la Santa Vergine che protegga Odentur Jesu Sest Maria Carissimi amici siamo di nuovo insieme per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al catechismo romano del concilio di Trento volendo possiamo anche chiamarlo il catechismo di San Pio V siamo giunti credo alla puntata numero 28 se non sbaglio e dovremmo questa sera continuare a trattare il lunghissimo capitolo dedicato al sacramento del battesimo cioè ci stiamo già da diverso tempo e vi assicuro che ci staremo ancora molto a lungo perché le pagine e i paragrafi sono ancora numerosi questo come ho già avuto modo di accennare nelle puntate precedenti è senza dubbio un segnale anche di quanto fosse avvertito, sentito e radicato questo sacramento anche perché certamente in quei tempi era maggiormente sentito rispetto ad oggi il grande e tradizionale antichissimo principio dell'extra ecclesia nulla salus quindi se tu non sei battezzato fuori della chiesa non c'è salvezza così suonava il tradizionale adagio dei padri della chiesa dai padri della chiesa in poi certo un adagio che va ben compreso che va circostanziato che va specificato però che si fonda sul mandato del Signore andate in tutto il mondo ammaestrate il Vangelo scusate andate in tutto il mondo predicate il Vangelo ad ogni creatura battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo insegnandolo ad osservare tutto ciò che vi ha comandato nel Vangelo di Marco si aggiunge che chi crederà e sarà battezzato sarà salvo chi non crederà sarà condannato se uno si legge il bellissimo simbolo qui comunque attribuito a Sant'Atanasio vedrà un'applicazione pratica e concreta di come era creduto e vissuto in età patristica questo grande principio dell'Ecclesiam nulla sanus comunque riprendiamo la volta scorsa abbiamo visto una serie di cose soprattutto riguardanti i padrini la necessità del battesimo dei bambini oggi cominceremo a vedere il paragrafo 178 che parla del battesimo degli adulti e poi il 179 quindi le disposizioni per il battesimo e l'importantissimo se ci arriviamo 181 che sono gli effetti del battesimo non mi dilungo troppo in modo tale che possiamo gustarci questo nuovo capitolo il battesimo degli adulti paragrafo 178 diverso metodo deve eseguirsi secondo l'antico uso ecclesiastico a proposito di adulti che nati da infedeli hanno raggiunto il pieno uso della ragione ad essi deve essere proposta la fede cristiana e con ogni cura devono essere esortati spinti e condotti ad accoglierla convertiti a Dio dovranno poi essere ammoniti a non differire il sacramento del battesimo oltre il tempo fissato dalla chiesa ricordando il motto biblico non ritardare di giorno in giorno la tua conversione al Signore questo è il libro del Siracide capitolo 5 versetto 8 si mostrano a loro che la conversione perfetta consiste nella rinascita al fonte battesimale inoltre si farà rilevare che quanto più tardi accederanno al battesimo per altrettanto tempo dovranno restare privi della partecipazione e della grazia degli altri sacramenti sostanza della religione cristiana ai quali non si può aggiungere senza il battesimo infine così essi rimangono privi del più grande frutto della rinascita battesimale la cancellazione delle colpe commesse e l'ornamento della grazia con il sussidio della quale è dato per l'avvenire di evitare il peccato e di custodire la giustizia e l'innocenza cose che costituiscono l'essenza di tutta la vita cristiana ecco io quando sento queste cose faccio una confidenza a tutti i figlioli cari, mati che ascoltano queste considerazioni ci passerei la nottata intera a commentarle, a pensarci non so se chi ascolta coglie e gioisce nel vedere scritte queste cose dove evidentemente traspare, risuona, fa eco fedele la voce della chiesa di Cristo allora un adulto che non è nato da genitori cristiani, cattolici numero uno ad essi deve essere proposta la fede cristiana questo sia ben chiaro la fede viene sempre proposta non viene mai imposta tuttavia con ogni cura dovranno essere esortati spinti e condotti ad accoglierla non forzati non violentati non costretti però esortati spinti e condotti sì perché l'accoglienza della fede cristiana non è un optional cioè vabbè se raccolgo bene se no va contento di quello che ho ma anche no cioè il senso stesso la ragion d'essere della chiesa dei ministri della chiesa ma anche dei fedeli qual è? raggiungere salvare e aggregare al santo ovire di Cristo il maggior numero possibile di anime perché? perché attenzione che questo non è un noi non ci rendiamo conto di queste cose e non ci credono manco tanti battezzati avete sentito come conclude questo primo capoverso del 178 dice se non si battezzano uno la cancellazione delle colpe non ce l'hanno secondo l'ornamento della grazia attenzione grazie alla quale è dato per l'avvenire questo vale anche per noi eh di evitare il peccato e di custodire la giustizia e l'innocenza cose che costituiscono l'essenza di tutta la vita cristiana Sant'Ommaso d'Aquino non l'ultimo arrivato ma Sant'Ommaso d'Aquino è eco in questo di Sant'Agostino e evidentemente queste affermazioni sono state sottoscritte dal Magistero autentico della Chiesa dice se una persona non sta in grazia di Dio è impossibile che non commetta peccati diciamo mortali quindi oggettivamente gravi per non creare equivoci impossibile perché senza la grazia è impossibile ma la grazia santificante gli esseri umani ce l'hanno soltanto attraverso il battesimo e i sacramenti della nuova alleanza amministrati nella Chiesa Cattolica punto e questo non è un optional capite i battezzati adulti che vivono in grazia il peccato grave devono dimenticare che esiste perché possono dimenticare che esiste san Giovanni evangelista nelle sue lettere scrive chiunque è nato da Dio non pecca chi pecca non l'ha mai visto e conosciuto io innumerevoli volte ho spiegato noi ci confessiamo cioè i buoni cristiani che vogliono seguire la regola d'oro si confessano anche tutte le settimane ma l'oggetto della confessione di devozione raccomandatissima sono le imperfezioni volontarie e involontarie quindi le innumerevoli mancanze che dalla mattina alla sera abbiamo nei confronti di tante virtù qualche peccato di debolezza di difetto no la distrazione nella preghiera le solite cose che succede i piccoli vizi che abbiamo i peccati di gola i piccoli scatti di collera la parola inutile la piccola si spera mormorazione maldicenza il discorso di stima propria il pensiero un po' superbo lo sguardo di curiosità che se uno comincia a fare la rassegna cioè ci sono anche degli schermetti che usavano tempi religiosi cioè unico di polegge può tranquillamente dire tutti però tutti quelli non fanno un peccato deliberato neanche piccolo quando san giovanni dice chiunque non pecca cioè non pecca ad occhi aperti cioè non commette un peccato ad occhi aperti cioè sa che una cosa offende dio è proibita dalla sua legge è cosciente di questo può non farlo e non lo fa perché nonostante le tentazioni le spinte verso il basso della nostra natura decaduta c'ha la grazia e può non farlo quindi comprendiamo noi che ci abbiamo la grazia di essere adulti e battezzati potremmo e dovremmo vivere così attenzione un battezzato vive evitando il peccato e custodiando la giustizia e l'innocenza non come certi come dire cristiani un po' all'acqua di rose chiamiamoli così che pensano di non avere nessun peccato ma invece poi ce ne hanno e tanti da un punto di vista oggettivo e pensano di non avere nessun peccato perché purtroppo come già diceva a suo tempo il Papa Pio XII il più grande peccato del nostro tempo è che si è persa la coscienza del peccato no no i cristiani ben formati li sanno bene quali sono i peccati li conoscono bene sanno distinguerli sanno riconoscerli ma non li fanno i cristiani dell'acqua di rose li fanno anche perché spesso non li sanno ben riconoscere per carenza di formazione oppure perché si autogiustificano e si fanno cosa oggi molto frequente la fede fai da te questo per me non ci vedo niente di male non è peccato quindi lo faccio riprendo la lettura nonostante ciò fu consuetudine della chiesa di non concedere subito a questa classe di individui il sacramento del battesimo si stabilì al contrario di ritardarlo per un certo tempo quindi un adulto che scalpita aspetta per essi del resto la dilazione non implica il pericolo che incombe per i bambini in caso improvviso di pericolo chi ha l'uso della ragione pur impossibilitato a purificarsi nell'acqua sacramentale può conseguire la grazia e la giustizia attenzione col semplice proposito di ricevere a suo tempo il battesimo unito al pentimento dei peccati commessi vedremo che per essere battezzato un adulto non deve confessarsi non c'è bisogno di confessarli i peccati ma se ne deve pentire però la prima pratica di San Pietro quella che ascoltarono in tutte le lingue parti e la media eccetera eccetera no? pentitevi e fatevi battezzare questo ritardo comporta parecchi vantaggi anzitutto dovendo la chiesa evitare con cura che qualcuno si avvicini al sacramento con animo insincero ipocrita c'è così modo di scandagliare la volontà di coloro che chiedono il battesimo proprio per questo fu stabilito da antichi sinodi che coloro i quali passavano dal giudaismo alla fede cattolica prima di ricevere il battesimo trascorressero qualche mese fra i catecumeni in secondo luogo essi vengono meglio iniziati alla dottrina della fede che dovranno confessare e alle regole della vita cristiana che ce l'ha le regole della vita cristiana eh infine si tributa al sacramento maggiore rispetto religioso ammettendo gli adulti al battesimo solamente nei determinati giorni di Pasqua e di Pentecoste e con cerimonie solenni talora però ci sono ragioni che vietano di differire il battesimo come il pericolo imminente di morte o la piena conoscenza che i destinati al battesimo posseggono dei misteri della fede così fecero Filippo e il principe degli apostoli il primo battezzando senza indugio leonuco della regina Candace l'altro battezzando Cornelio non appena costoro enunciarono la loro adesione alla fede quindi c'è un aspetto da notare che la chiesa è ministra dei sacramenti un ben volentieri li dà ma li dà a chi è ben disposto a riceverli non a chi non ha le debite disposizioni differimento del battesimo primo effetto positivo evitare che qualcuno si avvicini al sacramento con anima in sincero ipocrita e quindi che sia scandagliata la volontà di coloro che chiedono il battesimo a disposizione per il battesimo questo è un paragrafo importantissimo l'intenzione e la fede occupa 179 il popolo inoltre deve essere istruito sulle disposizioni di coloro che devono ricevere il battesimo in primo luogo è necessario che vogliano e si propongano positivamente di riceverlo attenzione che ogni sacramento richiede un atto di volontà ogni devi volerlo ricevere nel battesimo l'uomo muore al peccato muore al peccato e assume una nuova regola e una nuova forma di vita san paolo morti al peccato io ho cercato di spiegarlo tante volte anche ai parrocchiani in tante pari cosa significa morti al peccato san paolo lo spiega nelle sue lettere scusate no tutti quanti abbiamo avuto esperienze di vedere qualche morto cosa fa un morto niente il morto non fa niente il morto è incapace per antonomasia di fare niente perché è inerte è immobile è corpo senza anima è cadavere allora proviamo a riflettere cosa significa l'uomo muore al peccato o la frase di san paolo consideratevi morti al peccato ma viventi per Dio in Cristo Gesù morto ci dice che hai fatto hai hai commesso l'atto impuro e come è possibile come fa un morto a commettere un atto impuro no hai bestemmiato e come è possibile hai detto la parolaccia ma come è possibile un morto cioè morti al peccato significa che queste schifezze soltanto un piccolo ma non esistono non si fanno è dunque ragionevole che non venga esso amministrato ai riluttanti o a chi non lo desidera ma solamente a coloro che vi si accostano con animo spontaneo e lieto vedete una santa e costante tradizione vuole che a nessuno venga impartito il battesimo se prima non è stato interrogato sulla sua volontà di ricevere non si deve pensare che tale volontà ma anche infanciulli ancora apriti di parola non vi può essere dubbio infatti sulla volontà della chiesa che si impegna per essi invece non si devono battezzare se non in pericolo di morte andate i pazzi e i furiosi che dopo essere stati consapevoli di sé persero la ragione senza poter riscontrare in essi alcuna volontà di ricevere il battesimo qualora vi sia pericolo di vita se manifestarono in qualche modo tale volontà prima di impazzire siano battezzati se no si tralasci ogni amministrazione del battesimo lo stesso di casi di chi è in coma vedete infine secondo l'esplicite autorevole consuetudine della chiesa coloro che non ebbero mai l'uso della ragione e mai furono coscienti di sé potranno essere battezzati come i bambini privi di ragione sulla fede della chiesa stessa oltre la volontà del battesimo e per le medesime ragioni eppure necessario al conseguimento della grazia sacramentale la fede infatti il nostro salvatore ha detto chi crederà sarà battezzato sarà salvo vedete la volontà di ricevere il sacramento allora uno è andato in coma e non è battezzato dice che facciamo lo battezziamo e viene di morire dipende se prima di andare in coma ha dato almeno in qualche modo un cenno di volontà di ricevere il battesimo se no non si può fare non si può essere battezzati contro la propria volontà un adulto una persona che l'uso della ragione non ce l'ha è un'altra cosa il bambino e le persone che poverine sono vissute senza mai avere l'uso della ragione esistono purtroppo quelli si battezzano sulla fede della chiesa stessa ma appena noi abbiamo l'uso del libero arbitrio quindi che 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 costituisce un componente proprio fondamentale ineludibile della natura umana ed anche della sua dignità il battesimo è una disposizione se manifesti la volontà di riceverlo se in condizione normale di pentire dei peccati e se credi che Gesù Cristo è Dio altre disposizioni la penitenza e il proposito di non più peccare il battezzando deve inoltre pentirsi delle colpe commesse e della sua vita peccaminosa proponendosi per l'avvenire di fuggire ogni peccato deve quindi essere recisamente respinto chiunque chiedesse il battesimo senza l'intenzione di sopprimere le proprie malvagie abitudini domanda tanto poi lo vedremo perché oggi siamo in tempi non può essere battezzato chi chiede il battesimo senza l'intenzione di sopprimere le proprie malvagie abitudini supponiamo una persona un libertino un fornicatore chiede il battesimo ma tu la devi piantare di fare sta roba qui altrimenti non può essere battezzato che ne so una persona che chiede il battesimo che ne so sta insieme pur essendo lui al momento non credente con una persona che magari aveva contatto un valido matrimonio nella chiesa cattolica nella chiesa ortodossa che celebra vari matrimoni tu chiedi il battesimo se tu chiedi il battesimo non puoi mandare avanti questa relazione se non puoi essere battezzato ma capite che mutatis mutandis dicono i romani le stesse identiche cose si applicano per gli adulti nel sacramento della penitenza una persona non può essere assolta se non ha la seria intenzione il proposito di fuggire ogni peccato di emendarsi di sopprimere le proprie non ha le abitudini ci sono purtroppo è certo questo qui nel popolo di Dio io ne ho avuto esperienza in alcune puntate in diretta quando andavo in diretta su Radio Buon Consiglio perché l'avevo raccontato tante volte l'esperienza di uno che lo disse proprio in diretta dice guarda io ho questo problema c'è un problema X del sexto dice però sai che faccio io voglio fare la comunione io mi faccio uscire tutte tante le parrocchie questo abitato in una grande città l'ho detto in diretta quindi non è un'informazione riservata quindi l'hanno sentita tutti da qualche parte sarà pure registrata sta catechesi quindi la domenica la dollina la domenica la dollina la domenica la dollina mi confesso perché l'ho fatti i peccati e poi mi rifaccio la comunione tutto bene bisognerebbe ecco andare a riprendere i passi del Nuovo Testamento che dicono Dio non si ride figlio mio e allora ha incontrato anche confessori o disattenti o pochino inesperti perché dinanzi a certi peccati si deve verificare se questo è un incidente un fulmine al cielo sereno o una ricaduta oppure una recidiva costante senza miglioramenti proseguo la lettura nulla è più ripognante alla virtù e alla grazia del battesimo che il contegno morale di coloro che non si propongono mai la cessazione del viere peccaninoso infatti poiché dobbiamo desiderare il battesimo per rivestirsi di Gesù Cristo e unirsi con lui Galati 3.27 dovrà essere tenuto lontano dalla sacra abruzione colui che ha in animo di persistere nei vizi la colpa ah lontano dalla sacra abruzione ah allora mi cacci ah allora che fai non mi battesimi mi neghi il battesimo no non te lo posso amministrare se tu stai in queste disposizioni ma immaginate la mentalità di oggi no succedesse il fatto del gel che tanto non succede oggi ah non mi ha battezzato ah mi ha respinto ah mi ha cacciato bella misericordia ah bello spirito d'accoglienza ah bella roba io ti chiedo il battesimo e tu non manco me la amministri grazie a Dio nella mens della chiesa cattolica proseguo nulla certamente di ciò che riguarda Gesù Cristo e la chiesa deve essere adoperato in vano io non te lo do il battesimo se è completamente inutile da quali colpe ti lavo se tu magari due ore dopo hai ricevuto il sacramento becchi un'altra volta ora è chiaro che considerando la grazia della salvezza e della giustizia il battesimo è del tutto privo di effetto in colui che voglia vivere secondo la carne e non secondo lo spirito citazione di Romani 8,4 sono parole forti sebbene costruire riceve il sacramento perfetto nella sua essenza se si proponga nell'atto del rito di ricevere quello che dalla santa chiesa abbiamo amministrato cioè riceve un sacramento ovviamente valido ma che non sarà efficace per mancanza di disposizione il principe degli apostoli appunto alla folla la prima predica l'ho già accennato prima che secondo il racconto scritturale chiedeva col cuore compunto agli altri apostoli che cosa dovesse fare rispondeva fate penitenza e ciascuno di voi diceva il battesimo e un'altra volta pentitevi e convertitevi affinché siano cancellati i vostri peccati questo la chiesa era sempre fatto sempre fatto e sempre detto anche San Paolo scrivendo ai Romani mostra chiaramente che chi riceve il battesimo deve morire del tutto alla colpa morire torniamo su questo termine morire e ci invita a non abbandonare le nostre membra al peccato come strumenti di iniquità ma a darci a Dio come risorti da morte il battezzato è risorto da morte da morte perché prima di essere battezzato era morto nell'anima non nel corpo si chiama peccato mortale perché produce la morte dell'anima ed anche la morte del corpo per la verità perché noi non dimentichiamo mai che c'è la sorella morte corporale la sorella ce la chiamiamo a San Francesco a causa del peccato qui sarebbe da verificare quanti cristiani ci credono anche chi sta ascoltando di letto di ferita tu ci credi che dobbiamo passare per la morte a causa del peccato originale tu ci credi che se il peccato non fosse entrato nel genere umano noi non saremmo morti l'arriamo fatto come la madonna un bel sonnellino in estasi ti asvegli e ti ritrovi in paradiso dal paradiso terrestre al paradiso celeste sarebbe andata così se qualcuno pensa che queste sono favole io gli dico sappia che è fuori della chiesa cattolica per usare un eufemismo se lo usavo nel linguaggio non eufemistico è eretico allo stato puro meditando di frequente tutto ciò i fedeli saranno anzitutto costretti ad ammirare fortemente la somma volta di Dio che spinto dalla sua sola misericordia e l'argia chi in nessun modo l'aveva beneditato il beneficio straordinario e divino del battesimo non meritiamo niente ma dinanzi a Dio in secondo luogo ricordando quanto la loro vita freggiata da si grande privilegio debba essere lontano da ogni genere di macchia comprenderanno bene come sia fondamentale il dovere del cristiano vivere ogni giorno piamente e religiosamente come se in quello stesso giorno avesse conseguito il sacramento e la grazia del battesimo queste sono cose normali figlioli miei cari a ogni modo per riscaldare potentemente gli animi assenzi di genuina pietà i pastori esporranno con dirigente parola gli effetti di questo sacramento di cui si comincia a parlare nel paragrafo seguente cioè nel numero 181 proviamo a leggere anche questo poi magari ci fermiamo sarà bene tornare spesso su questo argomento affinché i fedeli riconoscano riconoscano sempre meglio come siano stati elevati di una dignità altissima e mai consentano ad esserne sbalzati dall'ensiro e dagli attacchi del nemico anzitutto occorre insegnare primo effetto del battesimo che la meravigliosa virtù di questo sacramento cancella e condona ogni peccato sia quello trasmesso dai nostri progenitori sia ogni altro da noi commesso per quanto incredibilmente grave esso sia già molto tempo prima Ezechiele l'aveva predetto parlando così in nome del Signore verserò sopra di voi un'acqua pura che vi monderà da ogni macchia e l'apostolo scrivendo ai corinzi dopo aver fatto una lunga numerazione di peccati esclama tutto ciò voi foste ma ora siete stati lavati e santificati questa senza possibilità di incertezza attenzione è la dottrina costante della Santa Chiesa vedete senza possibilità di incertezza dottrina della costante della Santa Chiesa ecco le parole di Sant'Agostino nell'opera consagrata al battesimo dei fanciuti la generazione carnale ci fa contrarre solamente il peccato d'origine nella rinascita spirituale vengono rimesse con la colpa originale anche le colpe volontarie San Girolamo scrive oceano tutte le colpe vengono perdonate nel battesimo affinché non rimanesse alcuna esitazione in proposito il Santo Concilio Tridentino dopo le definizioni degli altri concili sanzionò la medesima dottrina lanciando l'anatema contro chiunque osasse sostenere il contrario o sofisticasse con il dire che sebbene i peccati siano nel battesimo perdonati in realtà non scompaiono del tutto radicalmente ma sono come superficialmente cancellati mentre le radici rimangono confitte nell'animo no no ecco le parole del concilio se sono quinta paragrafo quinto Dio nulla trova da odiare nei rinati poiché nulla hanno di riprovevole coloro che con il battesimo realmente si fecero seppellire di nuovo nella morte di Gesù e con Gesù Cristo e non procedono più secondo i dettami della carne essi si spogliarono della vecchia natura e ne assunsero una nuova creata secondo Dio ormai sono divenuti innocenti immacolati immacolati puri incolpevoli cari a Dio guardate che bello innocenti immacolati puri incolpevoli cari a Dio ultimo paragrafo che meglio leggerlo adesso lo stimolo della concupiscenza non è soppresso paragrafo 182 importantissimo ma nel medesimo punto il concilio ribadisce autorevolmente che nei battezzati sussiste ancora il fomite della concupiscenza esso però non possiede alcun carattere di peccato secondo la sentenza dello stesso Sant'Agostino i pargoli sono nel battesimo assolti dal reato della concupiscenza ma questa rimane per lo svolgimento della lotta morale e altrove scrive il reato della concupiscenza è cancellato non è col battesimo l'infermità rimane infatti la concupiscenza che deriva dal peccato altro non è che il moto dell'animo naturalmente in contrasto con la ragione da questa tendenza è del tutto ma questa tendenza è del tutto immune da peccato se non reca con sé l'assenso volontario o una negligenza di sorveglianza e quando San Paolo scrive avrei ignorato la concupiscenza se la legge non mi avesse imposto di non avere cupidige intende parlare non del vigore della concupiscenza ma del vice della volontà San Gregorio formulò la stessa dottrina scrivendo nessuna teoria è più anticristiana di quella che sostiene la sola superficiale scomparsa dei peccati nel battesimo il sacramento della fede trae l'anima all'adesione con Dio libera radicalmente dai vincoli del peccato e a sostegno della sua dichiarazione invoca le parole del Salvatore chi è lavato non ha bisogno di lavarsi che i soli piedi ed è tutto puro chi vuole un'immagine espressiva e limpida di questa verità rifletta sulla storia dell'ebroso Naaman narra la scrittura che bagnateci sette volte nel Giordano guarì così completamente della sua leppera che la sua carne sembrava la carne di un fanciullo perciò l'effetto specifico del battesimo è il perdono di tutti i peccati contratti per vizio di origine o per nostra colpa tralasciando ogni altra testimonianza ricorderemo come il principe degli apostoli dichiari esplicitamente che appunto per questo è sostituito la nostra signora salvatore pentitevi che ognuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per ottenere il perdono dei peccati bene amici diciamo che è ora di mettere punto per non appesantire troppo la catechesi quest'ultimo paragrafo semplicemente puntualizza un dato un dato empirico la concupiscenza noi l'abbiamo quindi quella che si manifesta sia nei modi comuni di intendere questo termine la concupiscenza è anche quell'inclinazione al male non soltanto da un punto di vista di disordine sessuale diciamo così ma anche tutte quante quelle altre passioni che ci trascinano verso il basso sentire gli stimoli non è peccato a consentirvi oppure lasciarli a ruota libera per una negligenza di sorveglianza la chiama così si diventa peccato questa cosa non è tolta dal sacramento del battesimo perché ci resta per il nostro combattimento spirituale ma la grazia ci dà la grazia di Dio ci dà la forza e la capacità di tenerla a bada bene amici con questo possiamo mettere punto Dio vi benedica la Santa Vergine vi protegga appuntamento per chi vuole la prossima puntata la prossima settimana laudento di Gesù e Maria di Gesù